Il focolaio è stato accertato nel mese di dicembre scorso ma solo ieri l'asla ha comunicato che i tre casi di contagio erano riferiti alla cosiddetta variante inglese. Uno di questi appartiene ad una studentessa che da Londra aveva raggiunto Sapri per trascorrere le vacanze di Natale con i suoi genitori. Gli altri appartencono a due familiari della ragazza. Da verificare ora se la stessa variante sia la base anche del cluster che interessò l'ospedale di Sapri dove lavorava il padre della giovane come medico del centro trasfusionale dove risultarono positivi poi anche un amministrativo ed un infermiere ed il marito di quest'ultima che era anch'esso infermiere presso il pronto soccorso. Seguendo la catena dei contatti risultò positivo anche il donatore di sangue che aveva avuto contatti con il medico al centro trasfusionale. Lo stesso di Vibbonati contagiò a sua volta madre, sorella, fratello e figlia e padre di 87 anni poi deceduto pochi giorni fa presso il centro covid di Benevento. Dei familiari della ragazza giunta da Londra risultarono positivi poi anche le sue sorelle, la mamma, la nonna e la zia. L'azienda sanitaria ha chiarito che questi tre casi di pazienti con la cosiddetta variante inglese sono venuti fuori nell'ambito del protocollo di collaborazione.